ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo speciale video oggi ragazzi andremo ad aprire un pacchetto molto particolare ho girato per varie edicole della mia città e l'edicolante mi ha venduto questo pacchetto al prezzo di 15 euro dicendomi che era molto particolare e si potrebbero trovare carte molto belle e sto pacchetto è un po diverso da quegli altri non capisco cos'è che ha di differente comunque andiamo ad aprirlo ovviamente sembra sigillato non è per niente risigillato sembra bello sealed vediamo un po' ok si non c'è nemmeno traccia di scotch quindi direi direi che è perfetto questo potrebbe essere solo un errore di stampa penso andiamo un po' a vedere ok un segnalino viasto molto interessante ok vediamo un po' ragazzi oddio allora il codice particolare ok obeso comunque il codice ve lo regalo ragazzi come potete vedere un po' particolare ha pure delle lettere in più allora seconda carta vediamo un po' oddio bella questa molto strano me lo ricordavo con la scritta viastro però deve essere proprio particolare questo questo pacchetto ragazzi deve essere proprio particolare andiamo a vedere ok kimeko ok golet madonna ragazzi 14 euro 15 quanto cazzo era per questo pacchetto corp fish ok so oddio motim oddio ragazzi cin 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 oddio ragabarri bur grotla la reverse ragazzi oddio la reverse impidim attenzione ragazzi oddio ragazzi c'è qualcosa è una black and gold oh mio dio ragazzi oh mio dio ragazzi è una black and gold black gold ragazzi lasciate like e iscrivetevi al canale mi raccomando condividete questo video a vostri amici attenzione oddio oddio ragazzi il dottor bavaro oddio ragazzi il dottor bavaro non ci voglio credere mi mancava ragazzi obeso incredibile è perfetta guardiamo subito di farla ovvero ragazzi madonna che pull che pull che pull eccolo qua il dottor bavaro ragazzi carta mi armi inter come potete vedere Mamma mia Ma adesso andiamo veramente a verificare Se è 230 kg Oddio Addirittura è troppo Il pirancino riesce a sopportare Questa potenza Oddio Ragazzi Sta salendo Oddio Mamma mia Mamma mia ragazzi E' proprio lui Il dottor Bavaro Incredibile Detto questo ragazzi Lasciate like Mi tremano ancora le mani Per aver trovato questa carta Lasciate like Iscrivetevi al canale Condividete questo video Ai vostri amici E noi ci becchiamo un prossimo video Sì Sì